Ciao a tutti ragazzi, buonasera e benvenuti a Low Content Cafe, qui c'è il mio, preparate il vostro. Di cosa voglio parlarvi questa sera? Questa sera volevo parlarvi di una cosa. Secondo voi è conveniente realizzare dei Low Content oppure è meglio realizzare, per quel che riguarda l'aspetto tra costo-beneficio oppure costo-guadagno. Conviene un non-fiction, un low content, lo vediamo insieme. Se mi seguite entriamo sul tuo mio PC e vediamo un po' come vanno le cose. Ok, ok, allora voglio subito iniziare da Fanster. Fanster qualcuno se mi conosce sa che io sono un suo fan del signor Timmerman, un personaggino con i capelli scompigliati, che però fa questi risultati. Allora, vediamo subito, vi dico subito che lui ha una quantità di libri che è incredibile, però, a prescindere da questo, vediamo questo che BSRA ha un 3.000.05 in libri. 3.000.05, 257 pagine. Andiamo a vedere più o meno cosa guadagna. Quindi 257 pagine. Abbiamo detto che è un libro da costa 12.95. Quindi 12.95. È un libro dove lui ha 3.84 euro circa, a copia, gli rimangono circa, 4 euro a copia, 4 dollari a copia. Come BSRA abbiamo detto che è un bel 3.000.05. Vediamo quante copie fa. 3.000.05. Fa 2.640 copie, che moltiplicate per circa 3 dollari e 84, fate un po' i conti però, questo è un libricino, da circa 6.000 dollari al mese. Un singolo libro, 6.000 dollari al mese. Vi voglio far vedere all'interno dei libri di Timmerman come sono. Allora, se andiamo a scorrere, c'è un'ottima cosa che lui fa, che è la richiesta della recensione, in prima o seconda pagina, intanto vi fa iscrivere, vedete, a una newsletter, in modo da avere il vostro indirizzo e mail. Dopodiché, lui di solito chiede, a Gromond, la special request. Questa è la sua richiesta di recensione. Dopodiché vi spiega come si risolve e questo è quello che lui vende. Qui non dovete fare altro che, ad esempio, nel caso di ads, cercare dove c'è la parola ads. Vediamo se la troviamo al volo. Ad, ads, ads. Comunque, è una roba semplicissima che tutti fate. Questo viene realizzato con un software, software molto semplice, costa circa 85 dollari l'anno ed è un bel software, perché fare queste robine qui ti porta a fare questi libri. Ma, passiamo a un altro, passiamo a un altro, un bel libricino. Questo qui è della Modern Kid Press. Loro fanno tanti libri per bambini. Volevo farvi vedere questo. I giornali della gratitudine in America vanno tantissimo, vanno. Vi faccio vedere vedere tutto l'interno così capite come funziona. Questo buco è di qualcuno. Anche lui mandare l'email per avere una sorpresa e nel frattempo mi prendo la vostra email. Questo qui è quello che lui vende. Come mi servo, come mi sento, scusate, le note che voglio scrivere, tutto quanto. È indicato per i bambini. Vedete, tutte le pagine sono uguali. Tutte, tutte le pagine. Quindi lo sforzo è nel costruire una pagina in modo da poter ricavare il libretto. Ma andiamo a vedere i dati. Allora, questo qui è un libro da 6,99. Il calcolatore, 6,99. Allora, andiamo a vedere i dati di best sell. Questo qui è un 770 in book. 770 in book con una royalty di quanto? un bel 5200 in book. Le pagine sono 110. 110 pagine. E vi mandano 2 dollari puliti. Abbiamo detto che era un 770 in book. 770 in book. Fa 2640 copie al mese che moltiplicate per 2 dollari fa un bel 5200 dollari al mese per un libro che costruisce un che contiene una pagina ripetuta per 109 volte. Perché se sono 110 pagine, 109 volte. Una sola singola pagina. Chiudiamo anche questo. Andiamo a vedere quest'altro. Chronicle book. Questo mi fa venire da ridere. Comunque, il nostro bel libricino è questo qua. È un'agenda, un classico libricino di quelli che ti regala il direttore della banca quando vai a chiedere il prestito per pagare la rata della macchina. Vedete? Tutte le pagine sono uguali. Cambia che cosa? La data. 1, 2, 3 gennaio. E andare avanti. Anche questo. Costo di produzione. Giudicate voi. Io non ne ho idea. Non lo so. Prezzo di vendita. 12,25 euro. 12,25 euro. E sono 372 pagine. 372 pagine per 12,25 euro. Si accontenta anche lui di 2 dollari. Ma andiamo a vedere quante ne vende. Perché è un rank 89 in book. C'ho paura ragazzi. Il signorino in questo momento ne vende 10.000 al mese. 10.000 al mese che non sarà così tutto l'anno ma è soltanto per gli ultimi mesi del 2021 e per i primi del 2022. Però 10.000 copie per 2 dollari fa un bel 20.000 dollari mese con questo libro. Difficile da fare. Costoso da realizzare. Vedete voi. Ma chiudiamo anche questo. E andiamo. Passiamo a John T. John T è un vostro collega. Non vi dico di chi è. Però è un vostro collega. Lo conoscete. E' uno che è abbastanza conosciuto. Lavora tanto con Amazon FBA lui. Quindi ha delle possibilità che noi non abbiamo. Però. Però. A prescindere da quello. Lui è un independent publisher come voi. fa questo libro di 107 pagine con 230 dbsr. Intanto facciamo un bel 230 dbsr. e si fa un bel 5.800 copie al mese. All'anno. Al mese. 5.800 copie al mese. Abbiamo detto 107 pagine. 107 pagine. E ha un costo di. E ha un costo di 4.99. Vediamo cosa gli rimane. 4.99. Anche a lui 2 dollari. 2 dollari. Moltiplicato per 5.861. Anche questo signorino. Fa 12.000 dollari al mese. Con un singolo libro. Questo libro dentro. Ha delle. Non ve lo posso fare. No. Lo faccio vedere da qui. Praticamente ha delle parolacce. Ha degli schemi sotto. Con delle parolacce. Questo è uno dei modi più semplici di fare un coloring book. Appena un attimo vi faccio una lezione per come realizzarli attraverso Canva. o attraverso altri programmi molto semplici. Quindi pubblicando delle parolacce. Per 50 pagine. Perché lui ha 50 disegni. Su questo libro. 12.000 dollari al mese. Chiudiamo anche lui. Prendiamo quest'altro. Questo non so di chi sia. Però abbiamo un bel 267 in book. Con 102 pagine. Quindi un bel 267. 367. 367. 5.300 copie al mese. Già mi sono dimenticato. Abbiamo detto. Quindi 102 pagine. E un prezzo di. 102 pagine per 5,99. Gli rimangono anche a lui. Un dollaro e 44. Un dollaro e 44 moltiplicato per 5.003. secondo me fa un 7.000 dollari anche lui. 7.000 dollari. Benissimo. Io direi che per quel che riguarda l'analisi a pc ci possiamo fermare. Adesso fate voi i vostri conti. Aspettate che torno di là. Bene. A questo punto dovreste essere in grado di farvi un'idea. Di scegliere quello che per voi è meglio. Di scegliere in che cosa dedicare le vostre risorse. Sia di tempo che tutto quanto. Da parte mia credo che sia un'ottima possibilità quella dello content. Dia degli sbocchi a tante persone. A chi magari ha avuto qualche esperienza che non è andata come aveva previsto. Come aveva preventivato. E questa secondo me è una buona occasione. Se mi seguite nei prossimi giorni direi di passare subito a qualcosa di concreto. Iniziamo a vedere come fare la ricerca keyword. Come produrre lo content. Che tipo di software esistono. Che tipo di risorse possiamo. Alle quali possiamo attingere. Per creare il nostro prodotto. E come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale. Di fare clic sulla campanella che trovate qui sotto. Da qualche parte. Perché serve a me per crescere su youtube. E come l'altra volta vi chiedo. Se avete domande o altro. Fatemele qui sotto. Per quel che riguarda le risposte. Cerco di rispondere a tutti. E naturalmente so che qualcuno che è più avanzato. Si troverà ad affrontare cose già viste. Però portate pazienza. In modo che tutti cerchiamo di arrivare allo stesso livello. Per stasera è tutto. Aspetto le vostre comunicazioni. Ciao a tutti. Buon 2022. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.